Esiste in Orange 22 in Second Life un meraviglioso posto che permette esercitazioni sui Sei capelli per pensare. Sei capelli per pensare è un libro di De Bono e affronta il problema dell'assunzione di ruoli differenti rispetto ad un problema. E quindi gli studenti vengono invitati ad indossare un cappello e di interpretare il ruolo di quel cappello. Il cappello bianco è quello neutrale, il cappello blu è il razionale, il cappello nero è il negativo, il cappello giallo è il positivo, il cappello rosso è il motivo e il cappello verde è il creativo. Ad esempio rispetto a un'esperienza didattica si potrebbe indossare il cappello bianco che è quello neutrale per l'analisi oggettiva dei dati, dei processi e delle informazioni che sono state date. Si potrebbe assumere un altro punto di vista, quello del cappello verde, fare proposte ad esempio creative, generare idee nuove e proporre soluzioni alla fine originali. Si potrebbe indossare il cappello giallo, ossia si potrebbero mettere in evidenza gli aspetti positivi e le opportunità di un problema. Il cappello nero mette in rilievo invece gli aspetti negativi e spiega perché la situazione non ha funzionato da certi punti di vista. Il cappello rosso permette di esprimere liberamente i propri sentimenti, le proprie emozioni e i propri sfoghi. Il cappello blu è il cappello della razionalità che potrebbe essere quello del conduttore, che stabilisce le priorità, le sequenze, i metodi e le regole del gioco, dei sei cappelli in generale. Come possiamo fare in questo ambiente di second life? Innanzitutto le persone che vogliono indossare un determinato cappello si mettono a scrivere al computer. Per esempio, cliccando su questa sfera che sta davanti al computer del cappello rosso, posso posizionarmi, come potete vedere, davanti al computer. Potrei simulare la scrittura dei miei pensieri che possono essere raccontati a voce. La rappresentazione è una sorta di personificazione di reflective learning. Per dare al meglio la rappresentazione del cappello rosso, potrei in questo luogo anche indossarlo. Basta cliccare sul cappello rosso, che vedete in alto sopra la postazione, e prenderlo e sarà naturalmente salvato nel proprio inventario e andando poi nel proprio inventario, ecco, nei elementi recenti, potete trovare il cappello con il cappello rosso Red Thinking e cliccando con il destro sul cubettino arancio potrei poi indossarlo, indossa. Ecco che ho indossato il cappello rosso e così potrò fare con gli altri cappelli interpretando un ruolo rispetto ad un problema, o un'esperienza che è stata fatta. Concludendo, questa è una modalità in Second Life interessante di utilizzare il gioco dei sei cappelli, soprattutto se si coinvolge la classe e se gli studenti possono condividere le loro opinioni su quanto è stato fatto e su quello che hanno prodotto in classe. Ecco, questa è poi la piattaforma dove potrebbero interagire. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.